Piazza Sant'Agostino, la piazza che ospiterà la festa di fine anno, ospita in questo fine settimana il mercatino degli operatori non professionisti. La signora Carla Giorni è la coordinatrice di questa iniziativa. Quanti banchi sono presenti? Sono presenti 15 banchi di tutti gli operatori non professionisti che espongono i lavori che fanno loro, tutte cose da loro prodotte. E ovviamente tutte diverse l'una dall'altra perché ognuno ha la sua creatività. Operatori non professionisti che cosa vuol dire esattamente? Vuol dire che noi operiamo senza avere particolari strutture e lavoriamo praticamente nelle nostre case, non abbiamo iscrizione a niente, non abbiamo partita IVA. Abbiamo delle direttive che dobbiamo seguire, quello sì, ci atteniamo a quello. Quali sono gli oggetti esposti in questo mercatino soprattutto? Abbiamo prevalentemente cose di Natale, quindi dai presepi a tutti i vari pupazzi, a tutte le varie cose, cioè tutto quello che è inerente al Natale. Però ecco le condizioni per fare bene ci sono perché Arezzo è molto affollata in questi giorni. A Arezzo c'è tantissima gente e quindi sì, le potenzialità ci sono, i conti si fanno sempre a fine mercato. Domani sera quando chiudiamo facciamo il resoconto dei due giorni.